L'Isil ha rivendicato in un video diffuso su diversi siti jihadisti l'uccisione dell'operatore umanitario statunitense Peter Kassig, divenuto poi anche Abdul Rahman, in seguito alla sua conversione all'Islam durante la prigionia. Se confermata, si tratterebbe della quinta esecuzione di un cittadino occidentale da parte del sedicente Stato Islamico in pochi mesi. A un anno dal suo rapimento dell'ottobre 2013, i genitori avevano poche settimane fa lanciato un videoappello per la sua liberazione. 26 anni, originario dell'Indiana, Kassig era stato sequestrato in Siria, dove si trovava per conto di un'associazione umanitaria che lui stesso aveva fondato. Nel video con cui rivendica la sua morte, l'Isil mostra anche la decapitazione di diversi uomini, che sostiene essere esponenti dell'esercito e dell'aviazione siriana fedeli a Bashar al-Assad.